E' molto più difficile perchè ci attaccano da due lati E' finito l'altro Allora non so più quale ho iniziato a attaccare Stiamo ammazzando lì bene Guardateveli che volano Bene Adesso vediamo se Quello l'abbiamo bersagliato per venino Poi tanto c'è ancora un altro Va bene sono dettagli Mettiamoci una pozione di cura Bene Devo farmene un po' di pozione di cura Guardate che mi è caduto quello lì Oh cavolo L'altro l'ho finito Oh aspettate mi è spaventato uno Pure sono morti Ah no è qui Oh cavolo mi vuole mortare Ah l'ha ucciso Calder E beh tutta roba interessante Devo dire Addio Draghi volano troppo bene via Dove è finito l'altro drago? Ho visto schiantarsi di sotto A meno che fosse questo qui Ah era questo qui Lo stesso Mi ci sono già passato Sì sì Qua ce l'ho già venuto Bene Un drago è sparito Durante il percorso Peccato perché ci sarebbe stato E va bene Tu Calder Non è che Puoi prendermi delle ossa Di drago Perché Continua a dargliene Questo continua a prenderle Ma Non so quanto durerà ancora La faccenda Tac Beh Ci può stare Andiamo Buttate giù due Nah Sky è buggato Allora ragazzi Ci vediamo nel prossimo episodio Perché qui Tanto L'altro drago Sembra sparito E Eccoli qui No Vabbè uno posso portarlo io Qua il drago In realtà Non si era schiantato Uno è sparito Peccato Allora ci vediamo Nel prossimo episodio Ah no 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 Niente Quello che ho ucciso prima Che cosa fa là Se ne guarda Boh Bene Allora ragazzi Niente Peccato Uno è sparito Sarebbe stato Molto carino Quindi niente Ci vediamo nel prossimo episodio Con un nuovo video E Alla prossima Ciao